Buongiorno a tutti e ben ritrovati, oggi andiamo a vedere un esercizio sempre sul calcolo dei parametri Z del quadripolo e quindi poi andare a risolvere il sistema per andare a calcolare i valori della tensione di ingresso e della tensione di uscita avendo due valori di corrente di ingresso e corrente di uscita. In questo caso rispetto all'esercizio che abbiamo visto nel video precedente il generatore di corrente dell'uscita ha questo verso qua, quindi fondamentalmente la IO avrà verso uscente rispetto anziché entrante quindi ricordiamo che il quadripolo ha questo qua, quindi abbiamo di qua tensione di ingresso e corrente di ingresso e qua tensione di uscita e corrente di uscita. In questo caso dobbiamo semplicemente fare attenzione alla caduta di tensione sui resistori se è concorde o discorde in modo da poter mettere il segno negativo dove serve. Bene, ci vediamo tra un attimo per andare a risolvere questo esercizio. Bene, come affrontiamo questo problema? Allora, è come lavorando con il metodo simbolico, quindi con i fasori, è come se alla fine risolvessimo un problema in continua quindi possiamo dimenticarci perché sappiamo che avendo segnali con la stessa frequenza tutti i segnali, tutte le tensioni e le correnti all'interno avranno la stessa frequenza quindi comunque sia possiamo tranquillamente calcolare semplicemente i moduli. Allora, come prima cosa andiamo a calcolare i nostri parametri Z facendo attenzione a che cosa dover considerare nei vari casi Allora, vediamo per prima cosa Z11 e Z22 che riguardano tutto l'ingresso e tutta l'uscita quindi abbiamo che allora Z11 è il rapporto tra la tensione di ingresso e la corrente di ingresso quando l'uscita è 0, quando l'uscita è 0, qua è un generatore di corrente quindi vorrà dire che è un circuito aperto su R3 non c'è caduta di tensione quindi avrò semplicemente R1 ed R2 in serie tensioni correnti hanno il verso giusto quindi avrò un segno positivo e quindi qua avrò 1820 Ohm poi Z22 allora Z22 devo annullare la corrente di ingresso quindi qua avrò un aperto e quindi su R1 non c'è caduta e avrò quindi R2 ed R3 in serie la tensione di uscita dove c'è la V0 ha il potenziale più alto rispetto a questo di riferimento la corrente avrebbe lo stesso verso e quindi devo mettere il segno meno perché ovviamente sono resistori quindi devo mettere meno e poi fare R2 più R3 quindi 1290 Ohm allora qua in realtà non è che esistano impedenze negative o resistenze negative semplicemente questo sarà poi un coefficiente che però a tutti gli effetti ha un valore ha la dimensione di una resistenza poi andiamo a vedere Z12 sarà la tensione di ingresso fratto la corrente di uscita con la corrente di ingresso nulla quindi apro questo generatore di corrente la tensione di ingresso quindi anche in questo caso R1 non avrà caduta di tensione e la tensione di ingresso sarà semplicemente quella ai capi di R2 e quindi avrò 820 quindi devo fare solo attenzione al fatto che la tensione è presa con quindi il nodo in alto positivo e la corrente avrebbe su verso il nodo quindi essendo concordi devo mettere il segno meno quindi qua dovrò mettere meno 820 Ohm la Z21 invece sarà tensione di uscita fratto corrente di ingresso con questo aperto quindi non circola corrente su R3 non c'è caduta prendo la tensione ai capi di R2 ma in questo caso la corrente è in verso opposta alla tensione quindi sarà positiva e quindi qua avrò più 820 Ohm bene ho tutti i valori che mi servono tutti i coefficienti per andare a sostituirli qua in realtà vado a riscrivere il sistema che serve più corretto quindi non è che posso mettere uguale 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 anche se ogni tanto mi prendo la libertà di fare qualche bruttura matematica quindi così e così allora andiamo a scrivere Z11 che sarà 1820 per I1 che vale I1 I1 l'ingresso che vale 15 per 10 alla meno 3 poi Z12 negativa quindi avrò meno 820 per I di uscita quindi 5 per 10 alla meno 3 uguale qui vado a mettere i miei puntini per le moltiplicazioni e qua mi viene 27,3 meno 4,1 ed è uguale 23,2 volt questa avrò allora Z21 820 per 15 per 10 alla meno 3 poi Z22 che è negativa quindi meno 1290 per 5 per 10 alla meno 3 poi vado a mettere qua questi e vado a fare i calcoli quindi qua avrò 12,3 meno 6,45 e mi viene 5,85 volt quindi questi sono i due valori andiamo a controllare sempre col simulatore se tutto torna qua abbiamo il nostro circuito e qua la tensione vi sarà 23,2 e qua la vo sarà 5,85 quindi tutto è stato fatto nel modo corretto quindi ricordate sempre di fare attenzione a questo esercizio proprio apposta di fare attenzione se in un caso o nell'altro i versi ad esempio del generatore di corrente sono differenti perché creano appunto questi meno nei coefficienti dei parametri z bene spero che sia tutto chiaro fatemelo sapere nei commenti e spero che vi possa essere d'aiuto ci vediamo al prossimo video grazie a tutti Grazie.